Questa notte le ho fatto prendere quasi un colpo, perché è capitato che c'era la messa alle 24 e io alle 9 avevo finito di maggiochiare qualcosa, ho detto aspetta che mi metto in una poltrona e aspetto, metto una sveglia, se non che invece di metterla alle 22 e 50, dovevo andare anche dagli ucraini a fare gli auguri di Pasqua, di Natale, l'ho messa alle 10 e 50 del giorno, quindi non ha suonato. È stato lo stesso Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, ad aver raccontato al termine della messa di Natale nella cattedrale vittoriese l'inconveniente, che lo ha visto suo malgrado protagonista la sera della vigilia, poche ore prima di celebrare il rito della mezzanotte. Nelle immagini della tenda TV, Monsignor Pizziolo ricostruisce davanti ai fedeli quanto accaduto, spiegando il motivo della sua assenza che tanta preoccupazione aveva suscitato. Sento bussare, toc toc toc, mamma mia, ed era Don Graziano che aveva fatto venire da Cordiniano la radiettrice, era preoccupato che avesse preso un colpo come era immaginabile, ed è un ringrazio anche Don Mirco che mi ha supplito e celebrato la messa di mezzanotte. E quindi ho poi fatto... L'applauso finale a Monsignor Pizziolo è stato il modo della comunità vittoriese di dimostrargli la propria vicinanza, perché a tutti, almeno una volta nella vita, è accaduto di saltare un appuntamento, proprio a causa di una sveglia puntata male. Non merita proprio un applauso, ma cosa volete? Sono cose che capitano, visto che il Signore non ha avuto orrore del grembo, dell'utero di una vergine, dobbiamo avere orrore anche dei nostri sonni e delle nostre debolezze.